Tutti i giorni, 7 su 7, dalle 6.30 alle 22, Nonno Libero in Piazza Goldoni ti aspetta con pizze, pocacce, piadine, primi e secondi piatti, tutti freschi di giornata. Vieni ad assaggiare i veri canederli trentini. Pizzeria Nonno Libero con allegria e simpatia in via Gallina di fronte al parcheggio dei taxi a Trieste. Noi stiamo già mangiando, ti aspettiamo! Noi stiamo mangiando, ti aspettiamo!